Musica Approssimarsi delle festività natalizie, personale della polizia locale e della locale stazione dei carabinieri hanno intensificato i controlli relativi alle attività commerciali, con particolare riguardo alla vendita di prodotti non in regola con le norme comunitarie, che possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori. Nel corso dei specifici servizi, il personale della polizia locale e della locale stazione dei carabinieri hanno rinvenuto all'interno di due esercizi di vicinato gestiti da cittadini di nazionalità cinese giocattoli e dispositivi elettrici privi del marchio CE della comunità europea e con marchi non conformi e privi delle avvertenze. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare 87 giocattoli di vario genere, 250 dispositivi elettrici, 107 occhiali da sole. A carico dei commercianti, sono state levate sanzioni amministrative per un totale di 16.000 euro. Per quanto riguarda i dispositivi elettrici, per la maggior parte costituiti da serie di lampadini per alberi di Natale e presepi, per il fatto di essere destinati ad essere collegati a presi di elettricità, possono essere, in quanto non ha norma, potenziale causa di folgorazione. Per questi motivi, i responsabili dei rispettivi comandi di polizia consigliano i cittadini di acquistare le decorazioni luminose, i giocattoli e altri oggetti solo dopo aver attentamente visionato le confezioni, ove sull'etichetta apposta obbligatoriamente o dal foglio illustrativo all'interno della scatola si dovranno rilevare le istruzioni obbligatoriamente scritte in italiano, il nominativo e la ragione sociale del marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante e del responsabile dell'immissione sul mercato, le precauzioni d'uso per la manutenzione e per il montaggio, la presenza della marcatura CE. Grazie a tutti.